Prossima domanda da parte di Angela di Emiliano. Angela, la dolce predicatrice. Lei scrive, e ho cominciato a arrivare in sogno con insegnamenti e visioni, e poi anche di giorno con visioni e messaggi, e si presenta così. Io sono la vita, la verità e la via, oppure la pace sia con te. Dato che, come dice fratello Giuseppe, Satana si maschera spesso da Madonne, Santi, eccetera, per essere sicura che questi messaggi sono profetici, autentici, e che Gesù è quello che mi parla davvero, posso inviarveli per valutare? Il mio cuore si espande di amore e di gioia, e sono pervasa dallo Spirito Santo quando arriva, ma voglio un vostro parere e sentire. Ho sempre scritto tutto subito, perché mi dice di scrivere subito qualsiasi cosa faccio, perché così non dimentico. Tutto sta cambiando dentro e fuori di me, e sono a servizio di Dio, nostro Padre e suo Figlio Gesù Cristo. Lode al Signore. Vi voglio bene. Amen. Amen. Grazie, eh. Grazie Angela. Allora, io benedico il tuo ministero di evangelizzazione, bellissime testimonianze. Visto che tanti fratelli ci mandano sogni e visioni che hanno, posso chiederti per tutti loro, come si può sapere e discernere se un sogno o una visione viene da Dio o è un angelo di luce? Vabbè, questa è una cosa che tutti dobbiamo imparare, anche io vengo attaccato dal diavolo con le mani di idee sbagliate, direzioni sbagliate, è sempre a nome di Dio ovviamente. Ma quindi dobbiamo scoprire da chi vengono. Sì. Non è difficile di vedere se sono autentici o no. Ci vuole solo un po' di pratica, come il banchiere in banca, non ci mette molto a vedere le banconote false. È sufficiente di misurarli col metro, per vedere cosa questi messaggi dicono, cosa guidano. Il metro è il metro della parola. Matteo 7,20 per esempio è una scrittura essenziale, dice che i loro frutti li riconoscerete. Sì. Cioè in base a... Il frutto che una cosa produce, in base a dove un messaggio guida, qui sappiamo se va in direzione giusta o in direzione sbagliata, però per sapere la differenza tra una banconota falsa e una vera, bisogna conoscere le banconote vere. Ok. Allora, secondo la parola puoi discernere se il sogno o la visione è da Dio o no. Ma a volte la visione non trovi scritture nella parola, o sogni a volte non c'entrano niente con la parola. E non sai, viene da Dio o no. Ma non è mica così difficile, sai. Non è troppo difficile, perché se no è il piano di Dio. Dio non potrebbe aver fatto le cose in modo che è troppo difficile per capirlo. Certo, è difficilissimo per persone che non hanno comunione con Gesù, non hanno comunione con il Signore, non conoscono la parola, non si esercitano ad ascoltare la parola vivente, la voce di Dio. Perché una cosa è la parola di Dio scritta, un'altra cosa è la parola di Dio viva, attraverso lo Spirito Santo. Sono cose diverse, appunto, come dici te, e la parola scritta non è che ti insegna la Chiesa vera, quella Battista, quella Pentecostale, quella Presbiteriana, quella di Dio e Mormoni. E non ci sono nella Bibbia. E le sono tutte sbagliate. La Bibbia non ti dà la lista delle religioni sbagliate, ti dà la religione giusta. La Chiesa giusta è il corpo di Cristo, è la Chiesa dei frutti. I nomi non valgono niente. Quindi ci arrivi in un altro modo. Il secondo Corinthians 11,14 dice che il diavolo si attraversa da Angelo di Luce e quindi si presenta come Gesù, come Madonna, come Padre Pio, eccetera. E allora, in queste visioni e sogni, viva a vedere, Angela e fratelli tutti, queste visioni e sogni, cosa vi ispirano a fare? Cioè, a cosa vi guidano? Ogni sogno, ogni visione che il diavolo manda o che Dio manda, c'è uno scopo. Va bene? Ok. E quindi, il diavolo prima ti manda, ti manda delle visioni, ti dà dei messaggi giusti, così per carpire la tua fiducia. Dopo che ha infranto le tue difese, ecco che fa seguire il veleno. Capisci? Ecco che allora Gesù diventa Pentecostale, Battista, Cattolico e Testo Madiceo. Capisci? Prima entra predicando solo la verità. E dice, ah, è la verità. Tu basta che guardi i politici e sai come il diavolo imbroglia la gente. Che politici cosa fanno? Promettono tutto quello che è giusto. I politici predicano meglio dei religiosi. Le pensioni, più soldi, meno lavoro, la luce nei campi, così che lavorano anche di notte. C'è tutta la demagogia a tonnellate. Però una volta che... Ieri Gesù mi parlava, mi pare che l'ho detto anche voi, eravamo seduti a tavola e stavamo mangiando, come è arrivato Lenin e Stalin e Hitler, Mussolini, com'è che hanno preso il potere? Predicando tantissime cose giuste. Hitler andava a prendere la comunione, le chiese cattoliche, il cattolico Hitler. Stalin, lui, come ha preso il potere Stalin? Insieme a Lenin, poi Lenin è morto. Predicando a favore dei poveri, i ricchi, i malvagi, i parassiti, i sanguissughe, uccidiamoli così che diamo la ricchezza ai poveri. Tutti i poveri a sostenere Stalin e Lenin e morire per loro. Però una volta che si sono assisi alle leve di comando, cosa ha fatto Stalin? Non era più il comunismo per servire i poveri, ma i poveri per servire Stalin. Cioè la guida non era più il comunismo, era lo stalinismo e non è lo stesso. Va bene, cos'era? C'è Usesco in Romania, no? Che lui predicava provvedere tutto per i poveri, tutto aiutare i poveri. E i poveri non mancavano di sicuro, tutti i poveri erano da niente. E la gente faceva la fila, anche tu forse lì, e Dora mi raccontava che c'era la fila la mattina alle 5, alle 6, faceva 5-6 ore di fila per prendere il latte, per a volte prendere l'olio, una volta al mese. 3-4 ore di fila per prendere mezza bottiglia d'olio. E c'è Usesco, aveva le villette in ogni città principale, aveva le villette, i bagni, con i lavandini, con i rubinetti d'oro. E questo è il comunismo. Ora, come si applica a noi questo? Il diavolo fa lo stesso, capisci? Così come Stalin è diventato, è andato al potere, era andato, predicando le cose giuste, per una volta al potere. E così lo fa il diavolo. Ti predica le cose giuste, ma per portarti in direzione sbagliata. La Madonna cosa fa, questa falsa Madonna? Predica, pregate, pregate, pregate. E queste Biblie che dicono, mi sembra giusto, decidi pregare. Poi predica anche cosa giusta. Mio figlio Gesù vuole giudicare il mondo per la malvagità, mi sembra giusto? E poi, dopo che ti ha imbrogliato con il nome di Gesù, ecco che Gesù lo mette da parte, poi comincia, grazie che mi venerate, grazie che mi pregate, grazie che venite a me, a me, a me, a me. Quindi ecco che lei ha preso posto di Gesù. Quindi vediamo che lo scopo ultimo non è Gesù, è la Madonna. Da qui sappiamo che è Satana. Non è la Madonna, ma è un diavolo travestito da Madonna. Appunto, come dice il secondo Corinthians 11, 14. Quindi, ripeto, queste visioni, questi sogni, cosa vi ispirano a fare? Se sono del Signore, vi guideranno a Gesù, vi guideranno al Signore. Altrimenti, se non guidano a Gesù, se non guidano al Vangelo, e solo al Vangelo, e nient'altro che al Vangelo, non sono del Signore. Da questo so che tutti questi messaggi delle madonna sono falsi. Io che conosco un pochettino la Bibbia, quando ascoltavo questi messaggi delle madonna, ma mi metteva a rire, ma come si fa a credere, se cretina, aggine, cretina, aggine, devi proprio essere ignoramus, ignorante, col doppio diploma, per credere a queste cretinagini. Ignorante di Bibbia. Proprio, proprio, ci vuole, dei religiosi che la Bibbia proprio non la capiscono per niente. Perché delle stesse sciocchezze. Sappiamo, per esempio, che le apparizioni mariane sono false, perché queste madonna ci guidano la venerazione di se stesse, e non solo del Signore. Va bene? Quindi, questo deve essere chiaro. Apocalisse 22, 8 e 9, qui, questa bella scrittura, puoi andare lì? Apocalisse 22, 8 e 9, 8 e 9. Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose, e dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me ne aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse, guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Ora, attraverso la madonna è facile scoprire che sono false, perché dico, grazie che mi pregate, venite a me, vi apparirò fra tre mesi, stupidaggini così. non stai guidando a Gesù, forse sto bamboletto con il ciucciotto in bocca che sarebbe Gesù in braccia sua, lei con la corona e Gesù con il ciucciotto. Ma sono proprio cretini per chiedere queste cose, cioè, sono proprio, cioè, ma d'accordo. Però cosa succede? Allora il diavolo si attraverso anche da Gesù, ecco che ti appare Gesù. Hai capito? Devi vedere cosa dicono, all'inizio ti diranno solo cose giuste, il mio Vangelo, la mia salvezza, ma dopo, calma, e dopo dov'è che guida? Cioè, il primo colpo di solito è tutto liscio, tutto bene, viva Dio, viva il Vangelo, viva il Vangelo, e dici, oh, io a favore di Dio. Sì, sembra tutto bene. E poi vediamo cosa avviene dopo, e dopo, e dopo, cioè, dove ti sta guidando? Se questo qui è il diavolo, ti guiderà da una parte che non è il Vangelo, ti guiderà dal prete, dal sacerdote, all'eccaristia cattolica, all'edificio protestante, ti guiderà da qualche parte sbagliata. Allora, se viene da Dio il sogno o la visione, sarà tutto basato sulla parola di Dio e darà gloria a Dio, non solo la prima parte sarà basata sulla parola, ma tutto, anche la fine, anche la fine. Cioè, questa apparizione madonnare, ripetono il Vangelo, ti pare che Gesù manda un angelo per ripetere il Vangelo, è scritto, io tutte le profizioni che ho ricevuto non è mai stata una ripetizione del Vangelo, a meno che hanno il messaggio di incoraggiamento, dice il Signore io ti amo nell'amore eterno, ok, questo è bellissimo, certo che nel Vangelo ma è questo un messaggio di incoraggiamento, ma riguardo alle rivelazioni, capito, tante di queste rivelazioni ripetono la Bibbia, perché i diavoli leggono la Bibbia, la ripetono, questo è biblico, sì, è biblico, ma è una pappagallata, è una ripetizione. Sì, ho capito. come segreti di fatti, ma è una stupidaggine, cioè la Bibbia parlava di queste guerre atomiche, parlava di queste guerre, il diavolo ha letto la Bibbia, capito, va bene? Poi anche il diavolo sa quello che sta per fare, quindi fa presto a profetizzare a quello che lui sta facendo. Ok, amén, amén. Allora, il sogno o la visione deve dare gloria a Dio tutto, fino alla fine, ogni parte deve essere, se è possibile, scritturale, ma se non trovate scritture per ogni parte del sogno, allora almeno dovete chiedervi cosa vi ispirano a fare. Ma anche cosa ti dice di nuovo, se non ti dice niente di nuovo. Come una guida, qualcosa. Sì, cosa vuoi che ti mandi un profeta, una visione per dirti niente, per dirti cose che hai già scritto lì. Oppure profezie sul futuro che non sono, che la Bibbia non, vedi, io sono sempre qua a profetizzare del futuro. Ho fatto adesso un DVD di due ore, e tutte profezie, però, capisci, ti do il fondamento, però profezie senza fondamento, tre giorni di buio, e dove è scritta nella Bibbia? Tre giorni di buio, e dove sono tre giorni di buio? Non c'è nella Bibbia tre giorni di buio, e allora devi credere alla persona, capisci? Cioè, anche la profezie del futuro adesso è basata su qualcosa, altrimenti buttale via e segue la Bibbia. una cosa che voglio chiederti, perché so che molti fratelli stanno pregando se devono uscire dall'Europa e dove andare, e in questi momenti quando tu preghi giorno e notte e chiedi a Gesù dove andare, dove andare, succede che fai un sogno e nel sogno ricevi una, non lo so cos'è, ti diceva in Russia in Alaska un fratello ha detto che lui ha ricevuto dal Signore non lo so se è in sogno o no, ha ricevuto e va in Somalia in Somalia e quindi lo so che è molto facile ricevere direzioni così all'improvviso e non sai è stato Dio o ricevuto una risposta divina e dal cielo o no è molto facile essere ingannati e credere che hai ricevuto da Dio ma forse non lo è solo perché i tuoi pensieri sono così assorbiti da questo soggetto che anche nel sogno a volte sogni qualcosa al riguardo poi vai in Somalia spendi tutti i soldi e il diavolo ti ha imbrogliato e allora come fai a sapere se hai da Dio ma io per me parlo perché io sogno tutte le notte sogno e tutte le mattine mi ricordo quello che ho sognato ma la maggioranza dei sogni non significano niente niente non hanno significato ho fatto alcuni sogni molto profondi molto belli fratelli che ci scrivono ha sognato il mio suoccio con il cappellino rosso cosa vuol dire ma a me per così mi fa perdere tempo ho sognato il vicino di casa che beveva caffè ho sognato che un ferito nella strada è una pozza di sangue la maggioranza dei sogni sono c'è vero deve sempre funzionare deve sempre andare c'è visione che ora vengono dal signore ora vengono dal diavolo ora vengono dalla mente carnale ora vengono da un film che vi dice in televisione cioè la maggioranza c'è tanti tanti sogni che fratelli ci mandano non gli rispondiamo neanche perché non significano niente capito loro stanno solo perdendo tempo a mandare questi sogni non significano niente cioè quando un sogno è profetico significativo lo senti che c'è qualcosa e questi ci prendiamo il tempo per interpretarli dimmi allora voglio dire che quando sto pregando per prendere una decisione nella mia vita non mi fido dei sogni anche se sogno qualcosa sul soggetto io non mi fido ho fatto sogni bellissimi su Gesù sogni molto spirituali che mi hanno veramente incoraggiata a innamorarmi di Gesù sempre di più cose belle sul paradiso ma quando si tratta di prendere una decisione importante per la mia vita non mi fido dei sogni e non seguo quello che ho sognato ma chiedo a Gesù direttamente con la parola prego lego la Bibbia prego lego la Bibbia finché sento nel mio cuore che è Gesù che mi parla perché nei sogni è troppo facile sbagliare nei sogni infatti come siamo venuti noi in Sud America è stato un sogno una rivelazione no la scrittura principale che io ho usato per venire in Sud America è stato in Primo Corinthians 14 che dice due o tre profetizzino e gli altri giudicano quindi noi pregavamo ricevamo rivelazioni a volte quasi tutte sbagliate Filippina Australia Sud Africa poi ci consigliavamo e non eravamo d'accordo e lo passavamo un'altra settimana allora andiamo Filippina no sì beh quella qual'altra alla fine finalmente io ho ricevuto una rivelazione e vai in Perù ricordi? sì e siamo andati in Perù no no questa è stata la prima 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 rivelazione tra tutte è stata Perù però poi abbiamo cambiato abbiamo pensato no andiamo qui andiamo là e poi alla fine siamo tornati sempre alla prima è vero la prima cosa che Gesù mi ha detto è vai in Perù la prima cosa e poi abbiamo cominciato a ragionare con la mente carnale quindi la Filippina e Sud Africa e dopo molto tempo che a quel tempo lì non avevamo questa premura che c'è adesso che fa poco che è tardi adesso sì sì e dopo molto tempo di nuovo dopo ho ricevuto di nuovo Perù ci siamo messi insieme e tutti abbiamo pensato sì sì cioè io pensavo sempre a quella scrittura il primo Crenzi 14 i profeti profetizzano due o tre e poi gli altri giudicano quindi ricevamo rivelazioni e poi ci mettevamo insieme alla mattina quando leggevamo la Bibbia pregavamo insieme e ognuno diceva la sua ed eravamo di solito in disaccordo noi diciamo ok va bene andiamo cioè nessuno di noi e tantomeno io voleva prendersi la responsabilità di traslocare tutta la tribù tutto il circo questore hai visto mai smontare un circo caro mio non mi chiedo non scherzo smontare un circo noi siamo qui siamo peggio di un circo abbiamo di tutti emugirafe gazzelle ipopotami quello sarei io e chi si prende le responsabilità i soldi erano misure avevamo in pari 3.000 euro avevamo bastano neanche per andare a prendere l'aereo quasi john john era ancora nel passeggino aveva due anni abbiamo telefonato abbiamo evangelizzato una donna che era responsabile una donna che stava divorziando cercato di aiutarla nel suo divorzio il suo marito che è scappato con la segretaria e questa era padrona di una compagnia di autobus abbiamo evangelizzato e ci ha e ci ha dato l'autobus per andare a madrid eravamo in europa orientale siamo partiti di là viaggio lunghissimo e ci ha portato gratis costavano migliaia di euro viaggio solamente per arrivare a madrid e quindi tra sfumare soldi evangelizzando la padrona di qui tra questo tra l'altro mia moglie ha venduto i miei cappelli e la mia giacca aveva una giacca di pelle per il freddo mia moglie ha venduto anche quello non male che i calzettoni le scarpe non le ha venduti di la benedica insomma mi abbiamo venduto tutto compreso i miei idoli avevo tre idoli tre cappelli ma gloria a Dio che li abbiamo venduti eh sì gloria a Dio però erano stati cari quando li ho comprati questi cappelli però adesso siamo adattati altri cappelli hai visto il cappello ultimo che hai comprato vedo questo eccolo qui quanto l'ho pagato questo oh that was a cheap one very cheap I don't remember 3.000 peso something like that questo l'ho pagato 3.000 peso quanti è in euro ehm it's seven hundred so quattro e mezzo quattro e mezzo quattro euro e mezzo questo cappello ma questo qui di classe sì quello è bello questo è un cappello di classe quello è bello sì cappello che gente di alto livello dico cappello nero va bene va bene un cappello tipo specie di cowboy cappello di mandriano più o meno con la cinghiole di cinta di qualche fratello a comprarlo e sono disposto a inviarlo faccio poco prezzo pagano due pagano due prendono tre sto scherzando questo non lo vende allora dove eravamo Angela abbiamo risolto sogna e visione c'è altro quindi fratelli come dice Angela io sono d'accordo con Angela non prendete decisioni perché ho sognato di andare in Alaska ho segnato l'Etiopia ho segnato di andare in Nigeria no no chiedete a Gesù che vi mostro usando la vostra zucca il cervello cioè il modo di decidere decisioni importanti così dovete chiedere a Gesù sempre scritture di conferma uno puoi chiedere che vi faccia capire che vi dia pace nel cuore potete ragionare col vostro cervello e il cervello di quelli intorno a voi perché se amate il Signore e pregate il vostro cervello sarà presto allineato con la volontà di Dio quindi quindi desiderio le decisioni la logica sarà per il Signore noi qui in comunità lo facciamo sempre ci riuniamo va bene e ragioniamo allora c'è da prendere la decisione qui adesso stiamo stiamo prendendo una decisione colossale vogliamo comprare un colosso ah un colosso qui in Sud America o perlomeno in questa zona sono i carretti tirati dai cavalli stiamo stifammiando soldi per comprare un cavallo e un carretto un carretto a quattro ruote che possa quando non abbiamo soldi per il diesel o per pagare i meccanici per le nostre macchine scassate va bene andiamo col cavallo quindi fratelli pregate le finanze per un cavallo e un carretto va bene stiamo pregando per quello quindi non è che noi cosa facciamo ragioniamo decidiamo insieme qui le decisioni non si fanno perché il frate Giuseppe si è svegliato una mattina ha avuto un sogno quante volte qui Angela facciamo cose perché Giuseppe ha avuto un sogno no per sogni mai quante volte non seguite i sogni no no va bene a meno che non è conformata dalle scritture e dal consiglio quindi i fratelli intorno a voi consigliatevi però quando vi consigliate attenzione con chi vi consigliate che ci sono anche cattivi consiglieri allora fino adesso ci sarebbe tanto tantissimo quello da dire però c'hai altri tu c'hai altri fratelli con altre domande vero? si ci sono altri ma non riusciremo a rispondere a tutti oggi comunque sorella Angela mandaci il tuo sogno che daremo un'occhiata e ascolteremo e ti faremo sapere se vuoi se invece ti abbiamo già risposto meglio ancora si molto meglio no è bello per i fratelli di imparare a interpretare i loro propri sogni si scusa Angela se mi sono Angela l'altra si 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 Angela di Emiliano si quindi mi sono dilungato perché io cerco sempre di rispondere un po' a tutti così che rispondo a fratelli che ne hanno scritto vai amén grazie a tutti